Nel nostro mondo apprezziamo le libertà personali, ma in Corea del Nord è tutta un'altra realtà. Immagina un luogo con regole così severe da sembrare incredibili. Oggi sveleremo le dieci punizioni più incredibili che vengono effettivamente utilizzate in Corea del Nord. Queste punizioni, che vanno dal terrificante al bizzarro, sono davvero uniche. Preparati a esplorare una realtà quotidiana molto diversa dalla nostra. 10. Esecuzioni pubbliche per la visione di media stranieri. In Corea del Nord, il regime esercita un controllo rigoroso anche sui contenuti culturali e mediatici dei cittadini. L'assoluto divieto di media esteri, in particolare quelli dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti, dimostra la paura del governo che queste influenze possano minare la sua autorità. Consumare contenuti stranieri è considerato un crimine punito con severità estrema. Un esempio scioccante di questa crudeltà è l'esecuzione di un adolescente nordcoreano per aver ascoltato K-pop, un genere musicale visto come una minaccia all'ideologia del regime. Questo caso non è un episodio isolato. Ci sono stati numerosi rapporti di nordcoreani condannati a morte per aver visto drama o ascoltato musica straniera. Il regime usa queste punizioni per instillare paura e mantenere il controllo, mentre promuove una narrazione che esalta lo Stato e demonizza le influenze esterne. Questo controllo totale soffoca ogni forma di pensiero individuale e crea una cultura di paura e conformismo. Numero 9. Tre generazioni di punizione. In Corea del Nord, la regola delle tre generazioni di punizione è una delle misure più severe e temute. Introdotta nel 1992 da Kim Jong-il, questa politica punisce non solo l'individuo che commette un crimine, ma estende la pena anche ai suoi familiari, compresi figli e nipoti. Questa norma crudele mira a prevenire qualsiasi dissenso contro il regime, creando un clima di paura e responsabilità collettiva. L'idea è consolidare il controllo del regime e scoraggiare l'opposizione, punendo ampiamente e senza distinzione. Le punizioni si applicano a una vasta gamma di reati, dai crimini gravi come il tradimento a infrazioni minori, come il consumo di media stranieri. Le famiglie colpite subiscono devastazioni enormi, con membri deportati, incarcerati o inviati in campi di lavoro. I bambini nati in queste condizioni crescono privati di diritti fondamentali e vivono in un contesto di paura costante, con effetti psicologici e sociali profondi che influenzano l'intera società. Numero 8. Campi di lavoro forzato. Kwan Lee So. Sotto il regime repressivo della Corea del Nord si trovano i temuti campi di lavoro Kwan Lee So, strutture di detenzione famigerate per la loro brutalità. Questi campi, tenuti segreti, ospitano presunti nemici dello Stato, spesso senza alcun processo legale. Sono noti per le condizioni estremamente dure, dove i detenuti, inclusi prigionieri politici e talvolta le loro famiglie, affrontano enormi difficoltà. Le testimonianze di chi è fuggito e di osservatori internazionali rivelano un quadro terribile della vita in questi campi, caratterizzata da lavoro forzato, malnutrizione e abusi sistematici. Il lavoro forzato è particolarmente preoccupante. I detenuti sono costretti a lavori massacranti in miniere, campi di disboscamento e terreni agricoli, contribuendo all'economia del paese. Questo sistema non solo sfrutta i prigionieri, ma sostiene anche il modello economico del regime. Nonostante le critiche internazionali e le richieste di chiusura da parte di organizzazioni per i diritti umani, il governo nordcoreano continua a gestirli, negando le atrocità commesse. Numero 7. Persecuzione delle credenze e delle pratiche religiose In Corea del Nord, il controllo del regime si estende anche alla vita spirituale dei cittadini, con una pesante repressione delle credenze religiose, in particolare del cristianesimo. Il governo considera la religione una minaccia al suo autoritarismo, temendo che le riunioni religiose possano favorire il dissenso o influenze esterne. Di conseguenza, le attività religiose sono sistematicamente soppresse e chiunque le pratichi o le promuova affronta punizioni severe. Anche i cittadini stranieri sono colpiti da queste politiche. Missionari e visitatori che partecipano ad attività religiose o distribuiscono materiali religiosi possono essere arrestati o espulsi rapidamente. Per i nordcoreani il rischio è maggiore. Le riunioni religiose clandestine sono punite duramente e i partecipanti sono trattati come dissidenti politici. Questo clima di paura assicura che la devozione sia rivolta esclusivamente verso il regime. Numero 6. Esecuzione di funzionari e corpi ai cani. In Corea del Nord, l'esecuzione di funzionari di alto rango è diventata un evento inquietante e frequente. Tra i casi più noti c'è quello di Chang Sung Taek, zio di Kim Jong-un, accusato di tradimento e corruzione. La sua esecuzione è stata descritta dai media internazionali come un caso di estremo terrore, con rapporti che affermano che sarebbe stato dato in pasto a cani affamati, sebbene la veridicità di tali dettagli sia controversa. La minaccia costante di una sorte simile assicura la conformità e schiaccia qualsiasi dissenso tra i più alti livelli di potere. Per la comunità internazionale queste esecuzioni offrono uno sguardo sulla crudeltà e sull'opacità del regime, contribuendo a un'immagine di Corea del Nord come stato spietato e implacabile, dove anche le elite non sono al sicuro. Numero 5. Esperimenti chimici e biologici In Corea del Nord, uno degli aspetti più inquietanti è rappresentato dagli esperimenti chimici e biologici condotti su esseri umani. Questi presunti esperimenti includerebbero l'uso di agenti nervini e patogeni mortali, violando gravemente le norme internazionali sui diritti umani e i trattati sulle armi chimiche. Oltre a scopi scientifici, si crede che tali test servano a instillare paura e a dimostrare il potere assoluto del regime sia a livello nazionale che internazionale. Le testimonianze di sopravvissuti e disertori descrivono prigionieri, spesso dissidenti politici o considerati nemici dello Stato, esposti a sostanze tossiche per valutarne la letalità, senza alcun rispetto per la loro vita. Le condizioni riportate sembrano un incubo distopico, con esseri umani ridotti a semplici soggetti di test nella ricerca di controllo del regime. Numero 4. Repressione dell'individualità e della libertà di espressione. In Corea del Nord, il regime limita severamente l'individualità e la libertà di espressione, imponendo norme rigide su aspetto e comportamento. Lo Stato stabilisce stili di capelli e abbigliamento per evitare influenze esterne e questo controllo è applicato tramite vari mezzi, come i programmi televisivi che promuovono queste regole. Chi non rispetta queste norme rischia umiliazioni pubbliche o punizioni più gravi, riflettendo l'ossessione del regime per l'uniformità. Questa repressione compromette profondamente l'identità e l'espressione individuale. In una società dove la libertà di scelta è essenziale, l'impossibilità di esprimersi attraverso l'aspetto personale è demoralizzante. I cittadini sono costretti a conformarsi alle norme statali, perdendo il senso di individualità. Numero 3. Sorridere nei giorni di commemorazione. In Corea del Nord il rispetto per i leader passati è obbligatorio e va oltre l'ammirazione, specialmente durante date significative come l'anniversario della morte di Kim Il-sung. In queste giornate è vietato sorridere, ridere o parlare ad alta voce, dimostrando il massimo controllo del regime su comportamento ed espressione individuale. Violazioni di questa legge non sono solo infrazioni sociali, ma gravi crimini contro lo Stato, riflettendo la profonda venerazione per i leader. Durante il lutto nazionale i cittadini devono reprimere qualsiasi reazione emotiva indipendentemente dai loro sentimenti personali. Le punizioni per sorrisi o comportamenti gioiosi includono umiliazioni pubbliche o lavoro forzato, rivelando la determinazione del regime a mantenere un controllo rigoroso e una totale conformità. Numero 2. Aborti forzati e trattamento severo dei fuggitivi. In Corea del Nord le donne incinte che tentano di fuggire dal paese affrontano un trattamento brutale. Se catturate, sono costrette ad abortire, una pratica che dimostra il disprezzo del regime per la vita e l'autonomia corporea. Questo intervento estremo non solo viola i diritti personali, ma dimostra anche il controllo oppressivo del regime su aspetti intimi della vita. I bambini nati da queste donne catturate non hanno sorte migliore, spesso vengono strappati alle madri e il loro destino è incerto, finendo spesso in orfanotrofi statali. Le dure pratiche del governo nordcoreano verso chi tenta di disertare sono ampiamente condannate a livello internazionale. Nonostante l'indignazione globale, l'isolamento e il segreto del regime rendono difficile l'intervento. Numero 1. Restrizioni sui viaggi ed esilio. In Corea del Nord il regime utilizza le restrizioni sui viaggi e l'esilio come strumenti di controllo e punizione per mantenere il suo dominio. Le infrazioni che possono portare all'esilio includono azioni che in altre parti del mondo sarebbero considerate minori, come accedere a media stranieri non autorizzati, esprimere dissenso o mantenere contatti con parenti all'estero. L'obiettivo del regime è impedire la diffusione di idee che potrebbero minare la sua autorità. Gli esiliati sono trasferiti in aree remote e sottosviluppate, con condizioni di vita dure e risorse scarse, rendendo la sopravvivenza quotidiana difficile. Le opportunità lavorative sono limitate e spesso prevedono lavori pesanti e mal retribuiti. L'esilio influisce anche sulle famiglie degli esiliati che spesso subiscono destini simili. I bambini, in particolare, crescono con opportunità educative ridotte, con effetti duraturi sulle loro vite. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!